Ciao! Questa è la mia faccia dopo una giornata intere di maneggio stavo facendo le vlog della giornata ma ad una certa è degenerata e quindi ho smesso, non ho più registrato nulla e niente, sono qui perché ho un mega pacco da aprire cioè voglio aprirlo con voi questo è un pacco di Karakata ecco, ah ma sono due e il primo è una mega pacco nuova wow 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 bellissima coperta Karakata per Infinity per questo weekend di gare con il marmo cioè non è marmo però è il, come si chiama, texture del marmo coperta Karakata bellissima con il ricamo cioè con il ricamato il mio nome ma qui ho un altro pacchettino ma io pensavo di trovare quello quello blu ma tante cose ci sono non avevo mica capito e non ho capito ma adesso è quello quello, quello, quello quello, quello blu è quello che uso con la pinagara però dato che lo volevo usare con l'infinity qua c'è scritto pina e almeno non vado in gare con l'infinity spero pina bello più cuffia e poi c'è una cosa rosa ah, un braccialetto mi sa sì, un braccialetto e cuffia completo top ho un altro pacchettino però lo apro in un altro video ciao magari faccio anche un video caldo che vi spiego la giornata di oggi anche se sarà interessante vabbè ciao 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 Grazie a tutti